Quando ci qualifichiamo in finale dopo 8, 7, 8, 9 anni, non lo so, è sicuro un risultato importante dopo un anno non buono come è stato l'anno scorso, ma dicendo la verità ho detto che onestamente mi manca al minimo una vittoria. Avversario più conosciuto, diciamo così, più conosciuto, già tre partite fatte tra noi e è sicuro che ci conosciamo bene, sappiamo come Sassari gioca, che sono la squadra con più punti segnati nel campionato, che gioca con grande intensità, 40 minuti, una squadra che ha gioco molto interno perché ci sono giocatori come Barnell, come Benjius e prima di tutto Billan che con spalla e canestro possono creare vantaggio alla separazione. Nello stesso tempo hanno grandissimi trattori piedi per terra come Kruslin, come Benjius. Da punto di vista tattico ci aspetta veramente un grandissimo impegno, un grandissimo lavoro non solo fisico, mentale uguale perché mantenere attenzione contro una squadra che gioca con intensità altissima, 40 minuti su e giù, mantenere attenzione 40 minuti è una cosa fondamentale.